La classifica ha ancora le prime giornate, ma soprattutto il sorriso va più che altro per la convinzione che quando facciamo un certo tipo di lavoro ce la possiamo giocare con chiunque. La nostra idea è quella lì, perciò sapevamo che questa era una partita difficile, che la dovevamo lavorare dal primo minuto fino all'ultimo. Così è stato e i ragazzi si sono impegnati. Tutti lavoriamo e chiunque vuole stare lì e giocare sempre ai vertici della classifica, o almeno tentare. E' vero che è difficile gestire, ma è pure vero che è quello che stiamo cercando. Al di là della tattica, il nostro credo, la nostra idea di essere protagonisti dentro il campo non cambia. Sia in casa o fuori casa, la nostra idea, quello che tentiamo di fare è quella. E' normale che sappiamo che è una trasferta difficile e la prepareremo nel migliore del mondo.